Marino Fiasella, Presidente della Provincia di La Spezia, veniamo dal Salone Orientamenti 2011, tantissime proposte per i giovani del vostro territorio. Ma è quasi un dovere, abbiamo tanti giovani disoccupati, tanti giovani che come negli altri territori di questo paese vivono un momento di grande smarrimento perché vedono incertezza per loro, vedono incertezza nel loro futuro. Il Salone dell'Orientamento gli aiuta a compiere una scelta nella formazione pensando davvero che attraverso tutti gli strumenti che mettiamo loro a disposizione si riesce a far comprendere, si riescano ad aiutare in questa che finisce per essere una scelta importante per la loro vita, forse definitiva. Mettiamo in campo tutto, mettiamo a sistema gli istituti superiori, le università che sono prossime al nostro territorio, mettiamo a sistema gli enti di formazione per l'avvio al lavoro, gli enti di professionalizzazione, ci sono anche gli stand delle forze armate, uno decide di fare, intraprendere quella carriera nella vita. Si misura un po' attraverso la scuola il senso di accoglienza, di integrazione, di novità e di freschezza di un territorio. Dentro quegli stand si vede la competizione, come se tutta la scuola spezzina siamo riusciti a farla vedere come un grande condominio ma un condominio armonico, dove ognuno presenta le sue diversità, è disponibile a far parte dell'insieme, del palazzo, dell'istruzione, della formazione ma ognuno ci mette il suo, la sua particolarità. Italia vive questo dramma di una popolazione che sta invecchiando la nostra provincia e la Liguria in generale ancora di più. Questo è naturalmente legato a due fatti, sì che qua uno dice il fatto positivo che fortunatamente si vive un po' di più perché c'è una qualità ambientale significativa, l'altro perché tanti giovani se ne vanno e quindi il dato, poi un dato statistico, il dato medio dice che la popolazione finisce per essere più anziana. Se ne vanno perché fanno fatica a trovare lavoro, perché c'è un sistema industriale produttivo che è crollato di fatto legato alle partecipazioni statali all'Almiero con un po' la crisi della Liguria. Ma l'Italia complessivamente come paese che ha fatto fatica a mantenere una sette industriale forte, insomma, quindi tutto il manifatturiero non esiste più, ormai è dislocato in altre parti del mondo. Si fa fatica, noi abbiamo provato a radicarci al valore aggiunto del mare, quindi alla cantieristica, all'attività che sul mare si possono sviluppare, alla nautica da di porto e poi valorizzando il turismo. Il turismo non tanto un turismo elitario ma un turismo per tutti, insomma, cercando di fondere la cultura dell'accoglienza. E questo abbiamo avuto qualche riscontro positivo perché nell'ultimo anno, negli ultimi anni, quando il paese metteva cifre negative nel dato statistico a fine anno rispetto alle presenze turistiche, noi in controtendenza abbiamo continuato a mettere il segno più, questo è un fatto significativo. perché abbiamo messo a sistema i territori, abbiamo capito che il turismo per tante attività era un valore aggiunto, quell'idea del mondo da conoscere, da valutare, da vivere, insomma, quella figlia della cultura del viaggio lento, ma della comprensione del territorio che si valorizza e si conosce, insomma, uno si porta a casa il sapore, il gusto dei prodotti quando viene a visitare questo territorio. Vale per il mare, questo tanto che per l'entroterra, insomma, per quella macchia di verde che sta alle spalle di questo mare azzurro meraviglioso. Altro dato positivo di cui abbiamo avuto proprio il termometro questa mattina visitando Orientamenti 2011 è la fattiva collaborazione tra le aziende del territorio e l'istituzione scolastica. Quindi c'è questo scambio continuo tra la scuola e il mondo del lavoro. Sì, sono tutti strumenti, tutte perché tutte le cose che si fanno per farle ci vuole un po' di fatica. Abbiamo provato a compierla questa fatica appunto per mettere in campo qualche strumento per agevolare, perché qualcuno dice i sistemi che si parlano, vale come poi le scelte che ci sia fra la domanda e l'offerta. Insomma, fra davvero, se questi due mondi si avvicinano, la domanda e l'offerta diventa più facile, perché davvero per rispondere in modo adeguato ai bisogni del paese e quindi ai bisogni del territorio. Noi siamo un territorio che in ritardo rispetto a altri ha vissuto il fenomeno dell'immigrazione. Dentro Orientamenti e dentro la scuola del nostro territorio che ho visitato in questi anni sono riuscito a capire che è il luogo nel quale si misura davvero la cultura dell'integrazione. Si fa fatica a volte fra adulti a comprendere, ad accettare nei quartieri, ad accettare sugli autobus il numero significativo di immigrati. T'accorgi che c'è un atteggiamento quasi sempre di considerarli un po' diversi. Noi e gli altri, dentro la scuola non è più così. Per i giovani diventa un fatto naturale integrarsi. La cosa bella che parlando con questi giovani ci sono da noi istituti dove la popolazione di immigrati è superiore al 30% degli iscritti. Quindi cifre significative sono un numero unico. Non ci sono il numero di questi e il numero degli altri. Sono un dato statistico. Poi ti accorgi che nei giovani figli di immigrati che sono qua ci sono le stesse aspirazioni, le stesse ambizioni dei giovani nostri. Quindi questa è l'integrazione vera. I loro genitori sono venuti qua e hanno accettato di fare i manovalli in edilizia, i lavapiatti. Poi ti accorgi che se vai all'Istituto Casini l'ambizione dei figli di immigrati è di fare il caposala, il grande chef oppure addirittura gestire un albergo, un locale. Quindi questo è bello, questo è che dà soddisfazione. È vero che i loro genitori sono venuti qua, gli andava bene far tutto ma come è accaduto per i nostri genitori, per i nostri nonni che l'ambizione loro era quella di consentire ai propri figli una vita migliore della loro e per gli immigrati accade questo. Quindi è il fatto che credo che dentro ogni situazione che viviamo si deve accogliere questo fatto. La multietnicità come valore, un territorio, una città che decide di valorizzare il fatto che è sul mare. Quindi con questo senso di apertura, di visione del mondo, di interfaccia, di porto civile, culturale e in qualche tempo anche morale del Mediterraneo. È un'ambizione alta questa. Non siamo solo un posto dove arrivano i container per il cuore dell'Europa e attraverso cui l'Europa manda i propri container nel Mediterraneo. Ma siamo un porto e l'idea di porto la dice lunga. Siamo un luogo sul mare da dove si può arrivare da mille direzioni. La pluralità della direzione ci obbliga ad essere aperti nello sguardo, avere orizzonti alti e questa è un po' l'ambizione di questo territorio.